Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore apparve in sonno a Giuseppe, affinché Maria non venisse ripudiata. Ave Giuseppe, ricco di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto è il frutto del seno di Maria, Gesù. San Giuseppe, Padre putativo del Figlio di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ave Giuseppe, ricco di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto è il frutto del seno di Maria, Gesù. San Giuseppe, Padre putativo del Figlio di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dei suoi peccati. Ave Giuseppe, ricco di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto è il frutto del seno di Maria, Gesù. San Giuseppe, Padre putativo del Figlio di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, glorioso Patriarca San Giuseppe, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, sorretti dal patrocino dello sposo della Tua Santissima Madre, ti preghiamo, Signore, per la Tua misericordia, che i nostri cuori possano disprezzare tutte le cose terrene e amare Te, vero Dio, con un amore perfetto. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'Eterno riposo donna loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.